Annabeth. Quella notte Annabeth dormì senza incubi, ma al risveglio si sentì comunque irrequieta. La calma, prima della tempesta. Leo ormeggiò la nave su un molo del porto di Charleston, non distante dal frangiflutti. Lungo la costa c'era un quartiere storico, fatto di alte ville, palmi e recinzioni di ferro battuto. Cannoni d'epoca puntavano verso l'acqua. Quando Annabeth salì sul ponte, Jason, Frank e Leo erano già partiti per il museo. Ed già riferì che avevano promesso di tornare prima del tramonto. Piper e Hazel erano pronte, ma la figlia di Atena volle prima parlare con Percy, che se ne stava affacciato alla balaustra di dritta, a scrutare la baia. «Cosa farai mentre noi non ci siamo?» gli chiese, prendendogli la mano. «Un tuffo nel porto», rispose lui in tono del tutto normale, come un altro ragazzo avrebbe detto «Mi farò uno spuntino. Voglio provare a comunicare con le nereidi locali. Forse potranno darmi qualche dritta per liberare quelle prigioniere ad Atalanta. E comunque credo che il mare possa farmi bene». Nell'acquario mi sono sentito... sporco. Aveva i capelli scuri e spettinati come al solito, ma Annabeth pensò alla ciocca grigia che un tempo aveva su un lato. A quattordici anni entrambi avevano sorretto a turno il peso del cielo. Lo sforzo aveva regalato a tutti due qualche capello grigio. Nel corso dell'ultimo anno, durante la scomparsa di Percy, le ciocche grigie erano finalmente scomparse. La cosa la rattristava un po'. Era come aver perso un legame simbolico che gli univa. Annabeth lo baciò. «Buona fortuna, testa d'alghe. L'importante è che torni da me, capito?» «Promesso», replicò Percy. «Vedi di farlo anche tu?» Annabeth cercò di reprimere l'ansia crescente. Si voltò verso Piper e Hazel. «Ok, ragazze, andiamo a fare visita al fantasma del battery». Più tardi, Annabeth rimpianse di non essersi tuffata nel porto insieme a Percy. Avrebbe preferito perfino un museo infestato di fantasmi. Non che le dispiacesse fare un giro con Esele Piper. All'inizio si divertirono a passeggiare nel verde. Stando ai cartelli, il parco si chiamava White Point Garden. La brezza dell'oceano spazzava via l'afa del pomeriggio estivo e all'ombra delle palme faceva piacevolmente fresco. La strada era costeggiata di vecchi cannoni della guerra civile e statue bronze e di personaggi storici che la fecero rabbrividire. Ripensò alla guerra dei titani e alle statue di New York, che avevano preso vita grazie alla sequenza di comando Dedalo 23. Si chiese quante altre statue in giro per il paese fossero segretamente automi che aspettavano solo di essere azionati. Il porto di Charleston scintillava al sole. A nord e a sud, strisce di terra, si stendevano come braccia a racchiudere la baia, mentre adagiata a un chilometro e mezzo di distanza dalla bocca del porto c'era un'isola con un forte di pietra. Annabeth aveva il vago ricordo che il forte fosse stato importante nella guerra civile, ma non si fermò a rifletterci troppo. Inspirò a fondo l'aria marina e pensò persi. Si augurò che niente potesse più separarli. Ogni volta che andava al mare non poteva fare a meno di ripensare a quanto aveva sofferto. Fu sollevata quando finalmente si allontanarono dall'argine per esplorare i giardini dell'entroterra. Il parco non era affollato. Annabeth immaginò che la maggior parte della gente fosse in ferie o chiusa in casa per il riposo pomeridiano. Passeggiarono lungo South Battery Street, che era costeggiata di ville coloniali a quattro piani. I muri di mattoni erano ricoperti di edera. Le colonne che sergevano sulle facciate erano di un bianco accecante, come i templi romani. I giardini traboccavano di rose, caprifogli e buganvillea in fiore. Sembrava quasi che Demetra avesse ordinato alle piante di crescere, diversi decenni prima, e non fosse più tornata a dire loro di fermarsi. «Mi ricordo un po' Nuova Roma», commentò Hazel, «con tutte queste ville, i giardini, le colonne e gli archi». Annabeth Annui rammentò di aver letto da qualche parte che gli stati del sud si erano spesso paragonati a Roma prima della guerra civile. Era stata una società in cui l'architettura maestosa, l'onore e i codici di cavalleria contavano molto. Così come, pensando al rovescio della medaglia, contava molto la schiavitù. «Roma aveva gli schiavi», argomentavano i sudisti. «Perché noi non dovremmo averli?» Rabrividì. Ammirava molto quegli edifici. Le case e i giardini erano molto belli, molto romani. Ma si chiese perché le cose belle dovessero sempre includere una pagina buia della storia. O era il contrario? Forse erano le pagine buie della storia a rendere necessaria la costruzione di cose belle per mascherare i propri aspetti peggiori. Scosse la testa. Percy detestava quando lei partiva per la tangente filosofica. Quando provava a parlare con lui di queste cose, gli si annebbiava lo sguardo. Le altre ragazze non erano molto loquaci. Piper continuava a guardarsi intorno a sé come se si aspettasse un'imboscata. Aveva detto di avere visto quel parco nella lama di Catoptris, ma non aveva aggiunto molto altro. Annabeth intuiva che aveva paura di parlarne. Dopotutto, l'ultima volta che aveva cercato di interpretare una visione del pugnale. Percy e Jason si erano quasi ammazzati in Kansas. Anche Hazel sembrava preoccupata. Forse stava solo studiando con attenzione l'ambiente circostante. O forse stava pensando a suo fratello. Nico rischiava di morire di lì a tre giorni, se non lo avessero trovato e liberato in tempo. Anche Annabeth avvertiva tutto il peso di quella scadenza. Aveva sempre provato sentimenti confusi verso Nico di Angelo. Sospettava che avesse una cotta per lei fin da quando si erano conosciuti, il giorno in cui lo avevano recuperato insieme a sua sorella Bianca in una scuola militare del Maine. Ma non aveva mai provato nessuna attrazione per lui. Era troppo piccolo e troppo lunatico. E aveva un lato scuro che la metteva a disagio. Tuttavia, si sentiva responsabile per lui. All'epoca della loro prima avventura, nessuno dei due sapeva dell'esistenza di Hazel. L'unica famiglia di Nico era bianca e quando era morta, lui era diventato un orfano senza casa che se ne andava in giro da solo per il mondo. Una cosa che Annabeth capiva bene. Era così assorta nei propri pensieri che avrebbe continuato a passeggiare nel parco per sempre, ma Piper la ferrò per un braccio. «Laggiù!» indicò verso il porto. A un centinaio di metri da loro, sopra la superficie dell'acqua, fluttuava una figurina candida e scintillante. All'inizio Annabeth pensò che fosse una boa o una piccola barca inondata di luce, ma lo scintillio era troppo vivo e si muoveva con troppa determinazione verso di loro, senza ondeggiare come un'imbarcazione. Quando si fece più vicina, Annabeth vide che era la figura di una donna. «Il fantasma!» esclamò. «Quello non è un fantasma», disse Hazel. «Nessuno spirito brilla così forte». Annabeth decise di crederle sulla parola. Non riusciva a immaginare cosa significasse essere come lei, morire così giovane e ritornare dagli inferi. Hazel sapeva più cose dei morti che dei vivi. Come in trance, Piper attraversò la strada e si affacciò dal muro della diga, mancando per puro caso una carrozza di passaggio. «Piper!» la chiamò indignata, come se la sua sola vista la offendesse. «È proprio lei», disse. Annabeth scrutò a occhi socchiusi il fantasma, che emanava troppa luce perché fosse possibile distinguerne i particolari. Poi l'apparizione fluttuò sino al frangiflutti e si fermò di fronte alle tre semidee. Il bagliore si spense. Annabeth rimase a bocca aperta. La donna era di una bellezza mozzafiato e stranamente familiare. Il suo viso era difficile da descrivere. I lineamenti sembravano mutare di continuo, passando da quelli di una splendida stella del cinema a quelli di un'altra. Gli occhi scintillavano allegri, a volte verdi, a volte blu o ambra. Anche i capelli cambiavano, alternando una lunga chioma bionda e liscia, a una cascata di riccioli color cioccolato. Annabeth provò subito una fitta di invidia. Aveva sempre desiderato avere i capelli scuri. Sembrava che nessuno prendesse le bionde molto sul serio. Doveva lavorare il doppio per farsi riconoscere come stratega, architetto o capogruppo al campo, o per qualunque altra cosa avesse a che fare con il cervello. La donna era vestita come una damigella del sud di metà ottocento, proprio come aveva detto Jason. L'abito era di seta rosa, con il busto ben stretto in vita e un'ampia gonna a crinolina a tre strati, bordata di pizzo bianco. Indossava un paio di lunghi guanti bianchi di seta e teneva accostato al petto un ventaglio di piume rosa e bianche. Tutto in lei sembrava calcolato apposta per comunicare ad Annabeth una sensazione di inadeguatezza. La grazia naturale con cui indossava quell'abito, il trucco semplice ma perfetto, il modo in cui irradiava un fascino femminile a cui nessun uomo avrebbe mai potuto resistere. Annabeth si rese conto che la propria gelosia era irrazionale. Era quella donna farla sentire così di proposito. E lei aveva già provato quell'esperienza. Finalmente la riconobbe, sebbene il suo viso continuasse a trasformarsi diventando sempre più bello. «Afrodite!» esclamò. «Venere?» chiese Hazel, stupita. «Mamma!» disse invece Piper senza nessun entusiasmo. «Ragazze!» La dea spalancò le braccia come se volesse un abbraccio di gruppo. Le tre semidee non si mossero. Hazel arretrò, finendo in mezzo alle palme. «Sono felicissima che siate qui!» continuò Afrodite. «La guerra è vicina. Lo spargimento di sangue è inevitabile. Perciò c'è solo una cosa da fare.» «E sarebbe?» si azzardò a chiedere Annabeth. «Una bella chiacchierata davanti a una tazza di tè, naturalmente. Venite con me.» «Quanto a te, Afrodite sapeva decisamente il fatto suo.» Le condusse al padiglione centrale del parco, un gazebo sostenuto da bianche colonne, dove le attendeva un tavolo apparecchiato con argenteria, porcellane e una teiera fumante, dalla fragranza mutevole come l'aspetto della dea. A volte cannella, a volte gelsomino o menta. C'erano vassoi di panini dolci, biscotti e muffin, burro fresco e marmellata. «Tutta roba che faceva ingrassare da morire», pensò Annabeth. «A meno che, naturalmente, non si fosse la dea dell'amore.» Afrodite si sedette, o meglio, si accomodò con grazia, su una poltrona di vimini dallo schienale ampio come la coda di un pavone. Servì il tè e i dolci senza versare una goccia o fare una briciola, la postura sempre impeccabile, il sorriso abbagliante. Annabeth la odiava ogni istante di più. «Oh, mie care ragazze, quanto amo Charleston!» esclamò la dea. «I matrimoni a cui ho assistito sotto questo gazebo. Ho ancora le lacrime agli occhi. E i balli all'epoca del Vecchio Sud. Ah, adorabili. Molte di queste ville conservano ancora statue in mio onore in giardino, anche se mi chiamano Venere.» «Ma tu quale sei delle due?» chiese Annabeth. «Venere o Afrodite?» La dea sorseggiò il tè, con uno scintillio malizioso negli occhi. «Annabeth Chase, sei diventata proprio una bella ragazza. Dovresti fare qualcosa per quei capelli, però.» «E Hazel e Vecchio. Ma come ti vesti?» «Come mi vesto?» Hazel abbassò lo sguardo sui jeans spiegazzati, più stupita che imbarazzata. Come se non riuscisse a immaginare che cosa avessero di sbagliato. «Ma, ma!» intervenne Piper. «Mi stai mettendo in imbarazzo?» «Beh, non ne vedo il motivo», replicò la dea. «Solo perché tu non apprezzi i miei consigli di moda, Piper. Non significa che le altre non possano farlo. Potrei rifare il look delle tue amiche in un attimo. Magari dei vestiti da ballo in seta come il mio.» «Mamma!» «E va bene.» Afrodite sospirò. «Per rispondere alla tua domanda, Annabeth, io sono entrambe. Afrodite e Venere. A differenza di molti dei miei colleghi dell'Olimpo, non sono cambiata quasi per nulla tra un'epoca e l'altra. In effetti, mi piace pensare di non essere invecchiata nemmeno di un giorno.» Si passò le dita sul viso, soddisfatta. «Dopotutto, l'amore è l'amore. Per i greci, come per i romani.» «Questa guerra civile non mi turberà quanto turberà gli altri.» Annabeth era sconcertata. Sua madre, la dea più razionale e intelligente dell'Olimpo, era ridotta a una povera dissennata incattivita che vagava per la metropolitana di New York. E con tutti gli dèi che avrebbero potuto aiutarli. Gli unici a non essere condizionati dallo scisma greco-romano sembravano essere Afrodite, Nemesi e Dioniso. L'amore, la vendetta e il vino. Tutti molto utili.» Eisel sbocconcellò un biscotto. «Non siamo ancora in guerra, mia signora.» «Oh, Eisel cara, quanto ottimismo!» «Eppure ti attendono giorni strazianti.» Afrodite piegò il ventaglio. «Certo che scoppierà la guerra. Amore e guerra vanno sempre a braccetto. Sono gli estremi delle emozioni umane. Il bene e il male, il bello e il brutto.» Sorrise ad Annabeth, come se fosse a conoscenza dei pensieri che la ragazza aveva avuto prima sul vecchio sud. «In che senso, strazianti?» chiese Eisel posando un biscotto. «Aveva qualche briciola sul mento e ad Annabeth piacque il fatto che neppure lei badasse minimamente a certe cose.» La dea rise, come di fronte a un cucciolo grazioso. «Beh, Annabeth potrebbe dartene un'idea. Una volta le promisi di rendere interessante la sua vita amorosa.» «Non l'ho fatto, forse?» Annabeth per poco non spezzò il manico della tazza. Per anni il suo cuore era stato diviso. Prima c'era stato Luke Castellan, alla sua prima cotta, che l'aveva considerata solo come una sorellina. Poi Luke era diventato malvagio e aveva capito che l'amava, un attimo prima di morire. Quindi era venuto Percy, che era snervante ma dolce, e lei per un attimo aveva temuto di perderlo per via di una ragazza di nome Rachel. Poi anche Percy era quasi morto diverse volte. Quando finalmente era diventato il suo ragazzo, era sparito per sei mesi e aveva perso la memoria. «Interessante, sì, a dir poco», commentò la figlia di Athena. «Beh, non posso prendermi il merito di tutti i tuoi guai, ma amo i tormenti e i colpi di scena nelle storie d'amore», disse la dea. «Tutte voi siete delle storie così belle, cioè delle ragazze così belle. Sono fiera di voi». «Mamma, c'è un motivo particolare per cui ti trovi qui», chiese Piper. «Oh, a parte il tè, vuoi dire? Ci vengo spesso. Adoro la vista, il cibo, l'atmosfera. L'aria profuma di romanticismo e cuori infranti. Non sentite anche voi? Secoli di romanticismo e cuori infranti». Indicò una villa poco lontana. «Vedete quel balcone in cima al tetto? Ci fu una festa lì, la sera in cui scoppiò la guerra civile. Il bombardamento di Fort Samter». «Ecco cos'era l'isola sulla bocca del porto», ricordò Annabeth. «È lì che è avvenuto il primo combattimento della guerra civile. I suddisti bombardarono le truppe nordiste e presero il forte». «Oh, che festa magnifica», esclamò Afrodite. «Un quartetto d'archi e tutti gli uomini vestiti con le loro nuove ed eleganti uniformi da ufficiali. E le donne? Avreste dovuto vedere come erano vestite? Io ballai con Ares. O era Marte? Avevo esagerato con lo champagne, temo. E i magnifici scoppi di luce sulla bocca del porto, il vuoto dei cannoni. Un'ottima scusa per i giovanotti? Per stringere tra le braccia le fanciulle spaventate?» Il tè era ormai freddo. Annabeth non aveva mangiato niente, ma le veniva lo stesso da vomitare. «Stai parlando dell'inizio della guerra più sanguinosa della storia degli Stati Uniti. Morirono più di 600.000 persone. Più americani delle due guerre mondiali messe assieme». «E il rinfresco», continuò in perterrita Afrodite. «Ah, era divino. Il generale Boregari in persona fece la sua comparsa. Che mascalzone. Era già la seconda moglie. Ma dovevate vedere che sguardi lanciava Lisbeth Cooper?» «Mamma!» Piper gettò il proprio panino dolce ai piccioni. «Sì, sì, scusa», replicò la dea. «Per farla breve, sono qui per aiutarvi, ragazze. Dubito che vedrete molto, Era. La vostra piccola impresa non le ha fatto conquistare le grazie della sala del trono. E le altre divinità sono alquanto indisposte, come sapete, divise tra greci e romani. Alcune più di altre». Afrodite puntò lo sguardo su Annabeth. «Suppongo che tu abbia raccontato alle tue amiche della rottura con tua madre». «La figlia di Atena sentì le guance in fiamme». Isele Piper la guardarono incuriosite. «Una rottura?» chiese la figlia di Plutone. «Una discussione», precisò Annabeth. «Non è niente». «Niente? Non direi proprio», ribatté Afrodite. «Atena era la più greca di tutte le dèi. La protettrice di Atene, dopo tutto. Quando i romani presero il sopravvento...» «Beh, adottarono Atena a modo loro. Divenne Minerva, la dea delle arti minori e della sapienza». «Ma i romani avevano altre divinità di loro maggior gradimento, divinità più fedeli allo spirito di Roma, come Bellona». «La madre di Reina», mormorò Piper. «Proprio così», confermò la dea. «Ho avuto una piacevole chiacchierata con Reina qualche tempo fa in questo parco». I romani avevano Marte, naturalmente. In seguito è arrivato Mitra, che non era neanche propriamente il romano o greco, ma i legionari ne andavano matti. Io personalmente l'ho sempre trovato volgare, un parvenu. A ogni modo, i romani hanno accantonato la povera Atena, le hanno tolto gran parte della sua importanza militare. E i greci non li hanno mai perdonati per tale insulto, né tantomeno li ha mai perdonati Atena. Annabeth si sentiva ronzare le orecchie. «Il marchio di Atena conduce a una statua, vero? Conduce a quella statua». Afrodite sorrise. «Sei intelligente, come tua madre. Devi comprendere però che i tuoi fratelli, i figli di Atena. Cercano la statua da secoli. Nessuno è mai riuscito a recuperarla. Nel frattempo hanno continuato a tenere viva l'animosità dei greci verso i romani. Ogni guerra civile, con tutto il sangue versato, tutti i cuori infranti, è stata largamente orchestrata dai figli di Atena. Questo è… Annabeth avrebbe voluto dire impossibile, ma ricordava le parole amareggiate della madre alla Grand Central Terminal. L'odio che ardeva nei suoi occhi». «Romantico?» suggerì Afrodite. «Sì, suppongo di sì. Ma…» Annabeth cercò di snebbiarsi il cervello. «Come funziona il marchio di Atena? Si tratta di una serie di indizi, di una pista lasciata da mia madre o…» «Non saprei». Afrodite sembrava educatamente annoiata. «Non credo che Atena abbia creato il marchio in modo consapevole. Se sapesse dove si trova la sua statua, lo direbbe chiaro e tondo. No, direi che il marchio è una sorta di scia di briciole spirituale. Una connessione tra la statua e i figli della dea. La statua vuole essere trovata, certo, ma può essere liberata soltanto dall'eroe più valoroso». «E per migliaia di anni non c'è riuscito nessuno», osservò Annabeth. «Di quale statua state parlando?» chiese Piper. «Afrodite ridacchiò. Oh, sono certa che Annabeth saprà ragguagliarvi. A ogni modo, l'indizio che vi occorre è vicino. Una mappa lasciata dai figli di Atena nel 1861. Un reperto che vi metterà sulla strada giusta una volta arrivati a Roma. Ma come hai detto tu, Annabeth Chase, nessuno è mai riuscito a seguire il marchio di Atena sino alla fine. Là dovrai affrontare la tua peggiore paura, la paura di ogni figlio di Atena. E se anche ce la dovessi fare, come userai la tua ricompensa? Per la guerra o per la pace?» Annabeth era felice che ci fosse la tovaglia, perché sotto il tavolo stavano tremando le gambe. «Dove si trova la mappa? Ehi, ragazze!» Eisel indicò verso il cielo. Due grandi anquile stavano volando in cerchio sopra le palme. Ancora più in alto, in rapida discesa. C'era una biga volante trainata da due pegasi. A quanto pareva, l'operazione capotavola di Bufordello non aveva funzionato. Almeno non per molto. «Afrodite spalmò del burro su Muffin, come se ci fosse tutto il tempo del mondo. Oh, la mappa è a Fort Samter, naturalmente. Con il coltello del burro, indicò l'isola. Sembra che i romani siano riusciti a intercettarvi. Farei ritorno di buona lena alla vostra nave, se fossi in voi. Gradite dei pasticcini da portare via?»